E' stata inaugurata presso Ide Arte Galleri la mostra d'arte in omaggio a Gian Pietro Testa, giornalista, scrittore e poeta, a poco più di un anno dalla scomparsa. Nato nel 1936 a Ferrara, dove è morto il 7 gennaio 2023, Testa è stato infatti anche pittore. Intitolata Gian Pietro Testa, il giornalista che amava dipingere, la rassegna a cura di Giorgia Mazzotti è organizzata dall'associazione culturale Ferrara Pro Art, con il patrocinio del Comune di Ferrara, dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, dell'associazione stampa Ferrara, con il sostegno di Amse Ferrara a tutela della memoria. La mostra raccoglie una serie di opere a tema prevalentemente femminile. L'artista letterato attinge a piene mani e sa fare sue le opportunità e le affinità che incrocia sulla sua strada e verso le quali si pone con atteggiamento curioso, anticonformista e creativo. In collegamento durante l'inaugurazione c'era il figlio del giornalista e pittore Enrico Testa, che si è unito nei ringraziamenti per aver realizzato questa rassegna a Ferrara. La mostra, ha spiegato la curatrice Giorgia Mazzotti, è nata affinché le sue opere non si disperdessero dopo la sua scomparsa. Firma di spicco per inchieste e reportage giornalistici a livello nazionale, Testa ha lavorato come cronista e inviato di testate come Il Giorno, L'Unità e Paese Sera. Direttore dell'ufficio stampa del Comune di Ferrara dal 1985 al 1992, ha fatto parte del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna dall'89 al 1998. È stato tra gli ideatori e promotori dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Bologna, insegnito nel 2017 del premio stampa La Carriera. Negli anni ha alternato la pubblicazione di opere di poesia e di narrativa. L'esposizione è visitabile nella galleria di Via Terra Nuova 41 fino a mercoledì 20 marzo.